Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio tutti i link qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Domenica 20 marzo 2022 un escursionista di 60 anni trova dei sacchi neri in un dirupo nella frazione di Palline a Borno, nel Bresciano, più precisamente sulla strada per la Val di Scalve. Certo che si tratti di spazzatura, con l'intento di rimuovere quei sacchi neri dal dirupo si avvicina al primo, buttato circa 7 metri dalla carreggiata. Gli basta smuoverlo un po' per accorgersi che è in parte lacerato e notare una mano sporca di terra all'interno. La mano di una donna con le unghie molto curate, smaltate di lilla con i glitter argento. In quei quattro sacchi neri ci sono i resti di un corpo, tagliato in piccole parti. I connotati della donna non sono riconoscibili. Ad un primo esame esterno della salma sembra che il volto sia stato sfregiato con il fuoco. Si indaga per omicidio volontario, ma senza l'identificazione della persona morta, gli inquirenti brancolano nel buio. La salma è inoltre in avanzato stato di decomposizione, mentre i sacchi in cui i resti erano contenuti risulterebbero più recenti. A questo punto sul luogo del ritrovamento giunge il SIS, la sezione investigazioni scientifiche dell'arma dei carabinieri. I giorni passano e in base alla corporatura esile della vittima, un metro e sessanta di altezza per circa 50 chili, ma anche grazie ad almeno 7 degli 11 tatuaggi ricostruiti dal medico legale e divulgati dagli inquirenti, il corpo risulta compatibile con Carol Maltesi, conosciuta come Charlotte Angie, scomparsa da giorni. Da giorni infatti i suoi profili social, come le piattaforme in cui si esibisce, risultano inattivi. Nessun post o aggiornamento, ma non solo. Nei mesi scorsi era stata definita dagli addetti ai lavori l'astronascente del settore per adulti italiano. La sua partecipazione come stripper era annunciata in Locandina e in rete in un locale in centro a Milano per un evento in programma dall'11 al 13 marzo 2022. Ma i riscontri della sua effettiva presenza erano risultati negativi. Vani, anche i tentativi di contattarla, il telefono risultava staccato. Nel frattempo gli inquirenti lavorano per ricostruire i legami e i movimenti di Carol, contattando le persone a lei vicine e chi la conosceva. I giorni passano. Arriviamo al 28 marzo, quando un uomo di nome Davide Fontana, impiegato in banca vicino di casa di Carol, si presenta in caserma per fornire delle informazioni. Le sue parole però si rivelano contraddette dalle emergenze investigative acquisite fino a quel momento. Davide era andato in caserma a Rescaldina insieme ad un'amica, disperato per la scomparsa di Carol, di cui voleva denunciare la scomparsa. Nella sua prima deposizione aveva raccontato che la ragazza aveva iniziato a frequentare un altro attore, ma lui era troppo geloso e il fidanzamento era finito nel gennaio del 2022. Aveva detto anche che da quella data Carol non si era più fatta viva. Abbiamo avuto qualche contatto su Telegram, lei spesso cancellava i messaggi, diceva che voleva dedicarsi al figlio, diceva che voleva lasciarsi la vita precedente alle spalle. I racconti del bancario con la passione per la cucina risultano strani, perché nessuno degli amici della 26enne ha mai ricevuto le stesse confidenze. Fontana racconta anche di non avere mai avuto le chiavi di casa sua, o meglio, che lei gliele lasciava solo quando doveva fare qualche lavoretto. Lui gliele restituiva mettendole nella cassetta della posta. Lo stesso vale per l'auto, la Fiat 500 della ragazza. Il suo racconto però si sgretola sotto una lunga catena di incongruenze e inesattezze. Gli inquirenti ormai sono convinti che nessun altro, se non lui, possa essere il possibile autore del delitto. Il 43enne è sotto pressione e crolla. Il racconto del delitto, dei giorni in cui ha fatto a pezzi il cadavere, è un film dell'orrore. Una volta uccisa la ragazza, conserva i resti per giorni nel freezer, poi tenta di bruciarli con l'alcol nel barbecue di un bed and breakfast di una frazione di cittiglio in provincia di Varese. Non ci riesce, così riporta tutto a casa e decide di puntare verso le montagne di Borno. Dopo il ritrovamento dei stacchi con il corpo, i carabinieri impiegano pochi giorni per riavvolgere il nastro. L'ultimo tentativo, quello di tagliare la pelle in corrispondenza dei tatuaggi, si è rivelato l'ennesimo fallimento di un piano senza senso. La sua confessione davanti agli investigatori colma gli altri passaggi non ancora cristallizzati dalle indagini. Sono le tre e mezza di martedì notte, gli inquirenti chiudono il cerchio e il bancario Davide Fontana esce dalla caserma per essere portato in carcere. Secondo quanto confessato dal 43enne, l'omicidio sarebbe avvenuto a gennaio. Dalle indagini era emerso che lo scorso 20 marzo l'auto intestata a Carol Maltesi era transitata proprio nel territorio di Borno, guidata da un uomo. Il corpo sarebbe prima stato riposto in un congelatore della casa della stessa vittima e poi gettata nel dirupo in montagna. L'omicidio e lo smembramento del cadavere sono avvenuti a Rescaldina, tra Milano e l'aeroporto di Malpensa, mentre l'occultamento è avvenuto a Brescia. Davide Fontana viene sottoposto a provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura della Repubblica di Brescia con l'accusa di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. Ci ha pensato due mesi a come e dove avrebbe potuto sbarazzarsi di quel corpo, ucciso e brutalmente offeso, sezionato in almeno 15 pezzi, congelato dal volto sfigurato perché non voleva che fosse riconoscibile. Per conservarlo in attesa del da farsi, aveva appositamente comprato un freezer a pozzetto che aveva installato proprio a casa della vittima. Ma chi era Carol Maltesi? Carol Maltesi era italo-olandese, originaria di Sesto Calende e comune del Varesotto sul Lago Maggiore. Aveva 26 anni ed era conosciuta nel mondo dell'intrattenimento per adulti, con lo pseudonimo di Charlotte Engie. Era cresciuta sulle rive del Verbano, dove aveva frequentato le scuole medie e superiori. Aveva studiato l'ex Orsoline e per anni aveva praticato equitazione e danza. Il vice sindaco Edoardo Favaron non poteva credere che quella ragazza trovata nei sacchi dell'immondizia, nelle montagne di Berno, solo una decina di giorni fa fosse stata una sua concittadina. Carol è stata residente ben due volte a Sesto Calende. Viveva in paese dal 2006, anche se frequentava le scuole elementari già prima del cambio di residenza, scuole dove alcuni compagni rammentano proprio un episodio legato alle sue origini olandesi da parte di padre. E in quell'occasione ci fu una canzoncina che Carol cantò proprio in olandese durante una recita natalizia, forse in quarta elementare. Ricordano gli amici che tratteggiano una ragazza solare e simpatica con la sua passione per l'equitazione, i gruppi musicali e i cantanti che piacciono a tutti gli adolescenti. Un'esistenza piuttosto normale, nonostante l'abbandono del liceo scientifico dopo i primi due anni per approdare prima al linguistico di Busto Arsizio e poi sempre nella città del sud del Varisotto in una scuola di moda, l'istituto Olga Fiorini, dove conseguirà il diploma. All'età di vent'anni il primo trasferimento ufficiale in provincia di Verona, a Isola della Scala, dove viveva il suo compagno, ma solo per qualche anno. I due, dopo aver avuto un bambino, si lasciarono e Carol nel 2020 tornò a Sesto Calende. L'anno successivo abbandonò nuovamente la cittadina dove tuttora vive la madre per trasferirsi a Rescaldina, lasciandosi alle spalle i luoghi dell'infanzia, qualche fidanzato, e gli amici di sempre che, dopo la tragedia, l'hanno ricordata con affetto. Carol era davvero una persona piena di gioia per la vita, una di quelle capaci di trasmettere la passione per quello che ama. Spero che riposi in pace, ha ricordato un'amica. I compagni di classe di Sesto Calende la piangono sulle baccheche di Facebook, profili quasi sempre privati che ricordano le passioni di Carol, i cavalli, la musica e gli amici. Come vi ho detto, Carol aveva avuto un figlio da giovanissima, all'età di 20 anni. Dopo la nascita del figlio nel 2016, la donna aveva cominciato a lavorare come commessa al Terminal 2 di Malpensa e, fino all'estate 2021, era stata impiegata presso il centro commerciale di Rescaldina. Sono state le difficoltà del Covid ad avvicinarla nel periodo del lockdown al mondo dell'intrattenimento per adulti, attraverso il suo profilo sul sito OF, dove pubblicherà i primi video casalinghi. Successivamente continuerà come attrice sotto il nome di Charlotte Engie. Carol, inoltre, si esibiva anche dal vivo. Sul web si trovano molte locandine che la annunciano sul palco di locali a luci rosse in diverse città italiane. Quando ha preso questa strada, lavorava. Si è allontanata da molti amici e amiche che non avevano condiviso la sua scelta. Nel novembre del 2020 aveva realizzato un video postato su Instagram dove parlava di violenza sulle donne. Non solo vittime di violenza fisica, ma anche psicologica, spesso nei riguardi delle altre donne. Me ne sono accorta quando sono diventata mamma, diceva in quel video. Era la giornata mondiale contro la violenza di genere. Qualche fan, per ammissione della stessa Carol, le chiedeva frequentemente di uscire contattandola. Nessuno però poteva prevedere cosa fosse realmente accaduto. In Italia non viene ancora riconosciuto come un lavoro serio, spiegava il mondo delle VIP. Ma che differenza c'è tra un'attrice per intrattenere un pubblico adulto e un'attrice normale? Se una donna interpreta un'assassina, lo è anche nella vita reale? No, lo stesso accade per noi. La ragazza si era decisa a trasferirsi a Praga per diventare una stella nel mondo dell'intrattenimento per adulti. Perché evidentemente, al di là del lockdown, era un lavoro che le piaceva. E onestamente vorrei immediatamente sottolineare che né io né voi siamo qui per biasimare Carol e il suo lavoro. Era sicuramente, insomma, un lavoro onesto, non andava a rubare e direi che il focus di questo video è un altro e non il lavoro di questa povera ragazza che ha perso la vita in un modo terribile. Davide Fontana lavorava come impiegato di banca nella sua città ed era un food blogger per passione. Sui social vantava un profilo Instagram con oltre 13.000 follower che comprendeva fotografie, recensioni di piatti e ristoranti pubblicate anche recentemente, ovvero nel periodo in cui la donna era scomparsa. Il 43enne che ha confessato l'omicidio e la vittima, Carol Maltesi, erano vicini di casa Rescaldina e avevano avuto una relazione. Alle due abitazioni nel centro del paese dell'Interland milanese i carabinieri hanno posto i sigilli così come alla macchina di lui parcheggiata nel cortile, quella della vittima che Fontana ha usato per trasportare il cadavere fatto a pezzi e in una via limitrofa. Appassionato di tecnologia e fotografia che fondeva all'amore per il cibo nella sua attività sociale, Davide Fontana si definisce così sul sito dedicato alla sua passione per la cucina, attivo da molti anni. Ariete atipico, calmo e razionale, ma testardo e determinato a raggiungere gli obiettivi prefissati. Poi vedremo quanto sarà calmo e razionale. Amo la cucina a 360 gradi, spiega. Mi diletto ai fornelli provando e riprovando ricette tradizionali e non, cercando spunti e ispirazioni dai migliori chef. La creatività, la ricerca nei ristoranti che frequento, sono sensibili al fascino di un piatto che riesce ad abbinare bellezza visiva ad un gusto sorprendente. Davide, nelle oltre tre ore di interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Brescia, ha raccontato che nessuno in questi mesi ha cercato Carol, che lui aveva ucciso a gennaio. Solo la mamma con alcuni messaggi Whatsapp e l'ex compagno sempre con messaggi. Al telefono nessuno, ha detto l'uomo. Il delitto, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe consumato proprio all'interno dell'abitazione della ragazza. L'uomo, nella sua lunga confessione, ha raccontato di aver ucciso Carol Maltesi con alcuni colpi alla testa sferrati con un martello. L'ho picchiata con un martello durante un gioco intimo. Si è giustificato con i carabinieri. L'arma è stata identificata. Non è escluso, tuttavia, che tutto possa essere avvenuto al termine di una furiosa lite domestica. Nei due appartamenti di Rescaldina, dove abitavano la vittima e il suo presunto assassino, sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Entrambi vivevano al primo piano del complesso di corte, con ballatoio, con ingresso sia al piano terra sia al primo piano. Le amiche e l'ex colleghe di Carol sottolineano che, tra lei e Davide, non c'era mai stato nessuno scontro e nessun litigio. Piuttosto, tra i due c'era una stretta amicizia. Davide Fontana aveva le chiavi di casa di Carol. Di quella casa al primo piano del complesso, situato al numero 9 di Via Barbara Melzi a Rescaldina. Inoltre, aveva accompagnato la 26enne a qualche casting. Carol e Davide avevano un buon rapporto, ricordano le colleghe. Le prime volte lui l'aveva anche accompagnata sul set. Lei non era innamorata, ma tra loro c'era sicuramente più di una complicità. All'inizio solo professionale, poi lui ha preso un appartamento accanto a lei. Erano in ottimi rapporti. Carol inizialmente si era avvicinata a questo mondo mentre era ancora impiegata in negozio. All'inizio faceva entrambi i lavori, raccontano le ex colleghe, ma doveva fare spesso dei viaggi che non si conciliavano con i turni. Visto che guadagnava bene, l'estate scorsa ha lasciato il lavoro da commessa. Lei diceva tranquillamente che tipo di lavoro aveva scelto. Aveva iniziato per curiosità. Si era trovata bene. Nei giorni del trasloco a Rescaldina con lei c'era anche Davide Fontana. Complice in alcuni filmini pubblicati in rete, si era poi trasferito lì due mesi dopo. Le vicine li ricordano a volte anche senza vestiti mentre correvano sul ballatoio per rientrare dopo una notte passate insieme a casa uno dell'altra. Mai sentiti litigare, qui le pareti sono sottilissime, andavano d'accordo e uno aveva le chiavi di casa dell'altro. Davide usava la sua macchina. Davide Fontana quindi entra nella vita di Carol e diventa una presenza abituale. Era più una frequentazione che un fidanzato, ma lei si fidava di lui, ricorda l'amica Cristina. Una volta mi disse che in casa le erano spariti dei soldi dalla cassaforte, credo qualche migliaia di euro. Ecco, solo lui e il suo ex sapevano dove trovarli. Carol inoltre grazie a questo lavoro aveva iniziato a viaggiare Belgio, Praga, poi le serate nei locali di Labdance, alle vicine che abitavano nella piccola palazzina di Via Barbara Melzi a Rescaldina dove si era trasferita da meno di un anno, Carol raccontava di sognare un futuro da modella ma non celava il suo presente. Alle ex colleghe Emanuela e Cristina aveva raccontato di aver fatto quella scelta per i guadagni perché era un ambiente in cui si trovava bene e perché così poteva dare un futuro migliore a suo figlio. Il bambino abitava con il suo primo compagno a Verona città dove anche lei aveva vissuto prima di tornare dalla madre. La madre di Carol aveva dei problemi di salute a causa dei quali Carol aveva chiesto i congedi previsti dalla legge 104. Il padre vive in Olanda insieme al fratello che lavora come DJ. Le sarebbe piaciuto ad un certo punto trasferirsi ad Amsterdam. sognava di viaggiare e con il suo nuovo lavoro in qualche modo lo stava realizzando racconta la vicina Sara. Vedeva il figlio ogni 15 giorni i rapporti con l'ex compagno erano sereni. Il piccolo giocava in cortile insieme a mio figlio racconta una vicina di casa. Carol era una ragazza gentile sensibile era diventata mamma a 20 anni ed era legatissima al figlio. A Natale aveva raccontato di voler portare il piccolo in vacanza a Disneyland per festeggiare insieme. Sono le 3 di notte quando Davide Fontana attore amatoriale crolla davanti ai magistrati e ai carabinieri dopo 4 ore di mezze parole. Stavamo girando un filmino per adulti lei era legata aveva un sacchetto in testa ho iniziato a colpirla con un martello su tutto il corpo non forte poi quando sono arrivato verso la testa ho iniziato a colpirla forte non so bene il perché non so cosa mi sia successo credo fosse già morta ma non sapendo che altro fare le ho tagliato la gola con un coltello da cucina confessa ad aver ucciso Carol di averne smembrato il corpo in 3 giorni di aver prima tentato di darle fuoco e infine di aver abbandonato i resti tra le montagne di Borno Brescia durante una vacanza in un hotel di Boario Terme vi ho raccontato tutto questo perché volevo togliermi questo peso e dire la verità mette a verbale davanti agli investigatori il delitto è avvenuto stando al suo racconto il 10 o l'11 di gennaio era mattina intorno alle 11 ero in smart working abbiamo girato due video con il mio telefonino il primo una scena non violenta è ancora conservato sul suo iphone il secondo l'ha cancellato in quel video legava la ragazza a un palo dall'up dance al primo piano dell'appartamento della vittima le ha fissato mani e piedi con lo scotch poi mentre la stava riprendendo ha iniziato a colpirla con il martello fino alla morte sono stato mezz'ora a guardarla e poi sono tornato a casa io onestamente ho i brividi cioè voi immaginatevi questo uomo che uccide questa ragazza in modo crudele atroce e poi quando ha finito sta lì a fissarla per mezz'ora quindi non ha il minimo disgusto verso se stesso per quello che ha fatto sta lì a guardarla per mezz'ora brividi brividi davvero assistito dal legale Stefano Paloschi Fontana racconta l'incontro con Carol e l'inizio della loro relazione l'ho conosciuta in un hotel a Milano nell'ottobre del 2020 io lavoravo in banca ma ho la passione per la fotografia l'ho incontrata attraverso Instagram e le facevo degli scatti in abbigliamento intimo vivevo a Milano insieme a mia moglie poi ho deciso di lasciarla perché avevo iniziato a frequentarmi con Carol avevamo una relazione aperta lei vendeva filmati e foto su OF è stato lui stando alle indagini a mettersi al volante dell'auto di Carol intestata alla madre la mattina del 20 marzo scorso e a guidare fino a Palline di Borno dove ha gettato in una scarbata di quattro sacchi neri di plastica ritrovati da un residente poche ore dopo con dentro i resti tra i rifiuti conosceva la Valca Monica Davide ci veniva da piccolo da Milano per passare le vacanze con la famiglia ed è proprio di quella montagna dove aveva trascorso momenti spensierati e innocenti da bambino prima e da ragazzino poi che si è ricordato nel tentativo di farla franca per capire se fosse il posto giusto per disperdere le prove di un delitto atroce e rimanere impunito dopo aver ucciso Carol Davide Fontana è andato in Valca Monica per condurre una serie di sopralluoghi in auto peraltro alla guida di quella stessa vettura erano già stati fermati sia lui è capitato la usasse in passato che la vittima di recente infatti le telecamere hanno inequivocabilmente cristallizzato un uomo solo in auto anche la mattina del 20 marzo quando peraltro il 43enne si è portato appresso il suo telefonino localizzazione incrocio dati lettura targhe e riscontri hanno fatto il resto quell'uomo viveva proprio allo stesso indirizzo medesimo civico dell'ultimo domicilio dichiarato dalla vittima nel frattempo già identificata dai carabinieri di Breno e Brescia coordinati dal sostituto procuratore Lorena Ghibaudo interrogato Davide in prima battuta fa confusione sul nome della struttura ed è incerto anche sul periodo preciso in cui vi avrebbe soggiornato è di fronte alle contestazioni degli inquirenti che inizia a ricordare con precisione gli mostrano prima le foto estrapolate da google poi l'analisi dei risultati telefonici del suo smartphone agganciano le celle di Darfo Boario Terme alle 10.01 del 19 febbraio alle 8.40 del 20 febbraio scorso confermo che in effetti quel weekend mi sono recato a Boario e ho fatto un sopralluogo in particolare il sabato verso le 11.30 mezzogiorno del mattino un sopralluogo precedente invece l'aveva fatto in una frazione di Cittiglio Varese i giorni successivi al delitto quando il piano che aveva in mente per la distruzione del corpo era un altro ho prenotato una casa singola isolata in montagna su Airbnb la prima volta mi ci sono recato alla guida della Fiat 500 della vittima e ho pernotato due giorni per rendermi conto della logistica poi ha prenotato nuovamente la stessa casa e ho portato i sacchi con i resti ho provato ad appiccare il fuoco nella zona barbecue con alcol e benzina ma mi sono reso conto che non era fattibile e quindi li ha riportati nel freezer a casa di Carol è una persona frastornata che non ha ancora dormito e sta realizzando il futuro che lo aspetta ha detto il suo avvocato Stefano Paloschi dopo l'interrogatorio per più di due mesi attraverso il telefonino della ragazza aveva risposto ai vari messaggi nel tentativo di far credere a chi le scriveva che fosse viva agli altri attori e agli amici che la cercavano aveva raccontato che voleva cambiare vita lasciare il mondo dell'intrattenimento per adulti menzogne belle e buone queste ripetute fino al 26 marzo quando dopo la scoperta del corpo il giornalista Andrea Tortelli scrive a Carol chiedendole per conferma di ascoltare la sua viva voce è stato l'unico a chiedere un vocale in questi due mesi mi sono spaventato e non gli ho più risposto Fontana racconta di come ha smembrato il corpo dopo aver acquistato un'accetta e un seghetto di metallo operazione che ripeto è durata due giorni di aver ripulito l'appartamento e di aver lavato gli stracci in lavatrice poi ha acquistato su Amazon un freezer a pozzetto prima aveva fatto un tentativo comprando un bracere ma l'aveva restituito sono i giorni in cui il figlioletto di una vicina di casa vedendolo in cortile gli chiede dove siano Carol e il figlio che ogni 15 giorni veniva a rescaldina a giocare è con il papà a Verona la risposta gelida in quei giorni siamo a febbraio nessuno dubita ancora di lui è un mostro quell'uomo è un mostro in queste settimane io scrivevo a mia figlia e lui mi rispondeva facendo finta di essere la mia Carol credevo che lei stesse bene invece l'aveva già ammazzata ci siamo mandati messaggi anche per il mio compleanno ma ora ho scoperto che era lui a farmi gli auguri non mia figlia sono sconvolto ditemi che non è vero Fabio Maltesi ha il cuore distrutto dal dolore non riesce quasi a parlare è lui il padre di Carol Maltesi in un'intervista l'uomo risponde a diverse domande Fabio Maltesi ha 58 anni e dopo la fine del matrimonio con l'ex moglie italiana rimasta a vivere a Sesto Calende risiede ad Amsterdam parla al telefono con la voce rotta dalle lacrime dicendo non posso non piangere non sono riuscita a chiudere occhio vorrei solo che non fosse vero è un momento tremendo signor Maltesi gli dice il giornalista l'avvocato mi ha detto di non rilasciare interviste ma io non parlo delle indagini voglio solo che tutti sappiano che Carol era una creatura splendida una figlia affettuosa una mamma che adorava suo figlio era piena di voglia di vivere lei era un angelo è morta in modo crudele il suo assassino ha confessato particolari raccapriccianti l'ha uccisa come una bestia nessuno merita di soffrire così mia figlia ha fatto una fine terribile ho sentito delle cose tremende su come l'ha ammazzata è stato diabolico non riesco a crederci mia figlia era bellissima lei la mia dolcissima Carol verrà in Italia? mi sto organizzando per la partenza non potrei mai restare qui voglio sapere come è morta mia figlia non potrei mai lasciare la mia ex moglie da sola sta vivendo come me un dolore insopportabile non sta bene devo starle accanto e poi devo vedere il mio nipotino che sta a Verona il figlio letto di Carol è tutto ciò che mi rimane di lei da quanto tempo non la sentiva? da quanto tempo non la sentiva? ecco io in verità credevo di sentirla sempre perché in tutto questo tempo le ho scritto su Whatsapp anzi in realtà io la chiamavo ma trovavo spento allora le scrivevo e lei mi rispondeva almeno credevo fosse lei ma ora ho scoperto che era il suo assassino pazzesco è una cosa incredibile ciò che ha fatto quell'uomo quindi lei era convinto che sua figlia stesse bene mentre era già morta? certamente dicono che l'ha uccisa a gennaio ma io anche dopo ho continuato a scriverla e ci siamo sentiti per il compleanno o meglio io avrei voluto sentirla perché gli auguri ce li facevamo sempre a voce ma ho trovato spento così ci siamo scritti o meglio mi sono scritto con il suo assassino nulla l'aveva mai insospettita? a dire il vero qualcosa di strano c'era prima di tutto nelle ultime settimane lei non mi rispondeva mai subito ma mi scriveva solo dopo uno due giorni e poi mi ero accorto che spesso mi mandava dei messaggi copie in colla con i precedenti e questo non era da lei allora gli ho chiesto il perché e lei anzi il suo assassino mi ha risposto di essere a Dubai invece era già in cielo giusto per sottolineare la follia di questo caso Davide Fontana ha vissuto accanto al cadavere di Carol Maltesi per quasi tre mesi dal 10 gennaio al 20 di marzo 69 giorni in tutto 69 giorni in cui Fontana risponde ai messaggi che arrivano sul telefono della vittima non è solo un tentativo di prendere tempo in quei giorni tra la fine di gennaio e metà febbraio l'uomo pensa veramente di poter fingere che Carol sia viva Fontana ha le password dell'home banking di Carol paga regolarmente l'affitto dal suo conto per un po' aggiorni i profili di OF di Telegram e di Twitter di cui allo stesso modo possiede le credenziali poi a un certo punto decide di chiudere tutto sparizione volontaria prima o poi i fan si scorderanno di lei e non la cercheranno più il piano però non regge il telefono di Carol squilla in continuazione non è vero come qualcuno ha scritto che nessuno in quei giorni si era interessato a Carol anzi e anche questo farà aumentare giorno per giorno quel peso che il bancario Fontana dice di essersi tolto alla fine della sua confessione davanti al magistrato e ai carabinieri insomma capisce che prima o poi qualcuno potrebbe denunciare la scomparsa di Carol ai carabinieri basterebbe una segnalazione per sfondare la porta del suo appartamento con i vigili del fuoco o ancora più semplicemente per chiedere copia delle chiavi alla proprietaria entrare in casa e scoprire il corpo nel congelatore il piano B dunque scatta il 19 febbraio è un sabato Fontana non lavora ma è come se lavorasse prenota un hotel a Boario Terme nella sua confessione non ricorda con precisione il nome dell'albergo ma è certo questo lo mette a verbale che c'è una spa con un centro benessere i carabinieri impiegano letteralmente pochi secondi a individuare la struttura quattro stelle con centro benessere e piscina Fontana non porta con sé quei cinque sacchi neri con il corpo di Carol il suo è un sopralluogo così lo definisce nella sua confessione in questa occasione sono salito a Borno passando da Malegno e poi sono andato fino a Palline lungo la strada ho verificato la presenza di più punti utili per disfarmi del cadavere la sua presenza è confermata dall'analisi dei tabulati telefonici e dalle celle del suo cellulare effettuate dai carabinieri l'apparecchio aggancia le celle di Darfo Boario Terme alle 10.01 di sabato 19 febbraio fino alle 8.40 di domenica 20 e il 26 febbraio Fontana ritorna a Rescaldina riprende la sua vita fatta di menzogne e falsità sul suo profilo Instagram dove usa il nickname uomo alla coc Fontana indossa i panni del food blogger e pubblica scatti a ripetizione il 24 febbraio è la mozzarella di pane con salsa al pomodoro il 26 la classica pizza tonda margherita in versione gourmet il 28 febbraio il dolce mozzami su solo a me leggendo il nome di questo dolce sono venuti i brividi di orrore chiedo intanto il tempo passa è il 19 marzo è un giorno importante nella testa del bancario perché è quello che sceglie dopo tentativi sopralluoghi e piani scartati per liberarsi il corpo dell'ex fidanzata Carol non è stupido e prima di salire sulla 500 della ragazza e puntare verso l'autostrada a 4 si accorge che c'è ancora un ultimo passaggio decisivo il corpo della giovane seppure smembrato e martoriato è ancora troppo riconoscibile i tatuaggi sulla pelle di Carol la farebbero identificare nel giro di poche ore questo è un errore imperdonabile la soluzione è l'ennesimo macabro abominio toglie i sacchi dal congelatore li apre uno ad uno e con una lama asporta i lembi di pelle in corrispondenza dei tatuaggi fa lo stesso con il viso Carol non c'è più ma il suo corpo è troppo pericoloso anche in quelle condizioni i carabinieri infatti risaliranno a lui in poche ore nella sua confessore non parla di un rito di un ultimo sfregio alla sua esistenza in realtà quel gesto è nell'orrore infinito di questo delitto la soluzione a un ultimo problema logistico prima di partire per Borno la mattina dopo domenica 20 marzo Fontana carica i sacchi sulla 500 di Carol imbocca l'A4 fino a Bergamo percorre la SS42 supera Borno e raggiunge la località palline sono le 11 del mattino si ferma in una piazzola e getta i sacchi in una scarpata che costeggia la strada prima di far ritorno a casa lungo la discesa verso Malegno si ferma a Borno nel piazzale del pattinaggio ed il party trascorre 5 forse 10 minuti fumando una sigaretta intorno a lui ci sono le montagne della Valcamonica lì in mezzo buttato come spazzatura c'è quello che resta del corpo di Carol è ancora congelato il sole del mattino scioglie in fretta il ghiaccio non passa neanche un giorno intero e nemmeno il pomeriggio a dirla tutta un abitante che sorveglia le discariche abusive alimentate dai turisti della domenica vede i sacchi qualche ora dopo pranzo vede spuntare una mano con le unghie smaltate di viola glitterato e non va oltre il 22 marzo la notizia del ritrovamento del corpo nei sacchi non buca le prime pagine i carabinieri impiegano poco per scoprire che proprio attraverso i tatuaggi il cadavere potrebbe essere identificato in tempi brevi lanciano dunque un appello al pubblico diffondono alcuni particolari circolano un sacco di ipotesi ma una è più concreta delle altre e anche se i tatuaggi non combaciano la perfezione gli investigatori sono convinti che si tratti della pista giusta l'auto della presunta vittima è stata ripresa dalle telecamere lungo la strada di Borno alla guida però come già vi ho detto c'era la sagoma di un uomo dai precedenti controlli della polizia si scopre che su quella fiat 500 a volte viaggiava proprio daniele fontana lui non lo sa ancora ma è già in trappola il 29 marzo capisce che il suo piano è stato in realtà un vero disastro che quella di carol maltesi non sarà la storia di un delitto perfetto le voci si rincorrono i giornali locali scrivono che forse la misteriosa donna fatta a pezzi è un'attrice non ha più tempo non ha più fiato nel tardo pomeriggio fontana si presenta dai carabinieri di riscaldina vuole denunciare la scomparsa di un'amica poche ore dopo è a Brescia al comando provinciale dei carabinieri di piazza Tebaldo Brusato alle 22.19 si apre il verbale davanti al magistrato la deposizione si chiude alle 3.16 di martedì 29 marzo il giorno dopo in prima pagina c'è la sua foto è quella di Carol il 31 marzo Brescia passa la palla perché nonostante l'occultamento del cadavere della povera Carol Maltesi si sia concretizzato a palline di borno l'omicidio si è consumato nel milanese a Rescaldina dove vivevano quindi PM e investigatori bresciani trasmettono gli atti di inchiesta alla procura di Busto Arsizio competente per territorio e retta da Carlo Nocerino procuratore aggiunto a Brescia nella sua ordinanza il GIP Angela Corvi si è quindi dichiarata incompetente a procedere non prima di convalidare il fermo di Fontana detenuto a Canton Monbello e disporre la custodia cautelare in carcere per i gravi indizi di colpevolezza anche davanti al giudice Davide Fontana ha confermato la confessione fiume resa il comando provinciale dei carabinieri in piazza Tebaldo Brusato davanti al sostituto procuratore Lorena Ghibaudo nonostante ciò restano allo Stato parecchi aspetti della drammatica vicenda ancora da chiarire dolore silenzio e la necessità di tutelare chi di questa storia rischia di pagare le conseguenze peggiori non potendo più godere dell'affetto della propria mamma Marco B l'ex compagno di Carol Maltesi sta vivendo un vero e proprio incubo sei anni fa con Carol ha concepito il figlio che da settimane dicono i parenti chiede sempre della madre l'uomo che abita in un comune della bassa veronese ha trascorso mercoledì la giornata nella sua abitazione uscendo solo per alcune commissioni ed evitando tacquini e microfoni con lui il figlio che dopo la scuola è rientrato a casa protetto anche dai nonni nel pomeriggio Marco si è fatto sfuggire solo poche parole non è questo il momento di parlare devo salvaguardare la mia famiglia è un momento delicato devo solo proteggere tutti in primis il mio bambino e non mi va di rilasciare dichiarazioni i sospetti che a Carol fosse successo qualcosa di grave all'ex compagno e a tutta la sua famiglia erano sorti alcune settimane fa come spiega come spiega l'ansa la 26enne non si era fatta viva nemmeno il giorno del compleanno del figlio questa cosa è inspiegabile e soprattutto non è mai accaduta in passato come spiega l'ansa la 26enne non si era fatta viva nemmeno il giorno del compleanno del figlio cosa questa inspiegabile è mai accaduta in passato che aveva fatto ipotizzare qualcosa di strano Carol aveva abitato nella provincia scagliera almeno fino al 2019 ed era stata impiegata come commessa in un centro commerciale in un negozio di scarpe dove lavorava a diretto contatto con il pubblico poi aveva scelto di voltare pagina andandosene nel milanese per inseguire una nuova carriera ma nonostante la pandemia il lockdown e le varie limitazioni era ritornata spesso nella bassa per incontrare l'ex compagno e vedere il figlio piccolo che cresceva il bambino non era stato messo al corrente di quanto accaduto protetto per quanto possibile dai nonni paterni e dallo stesso papà l'uomo trincerato nel suo silenzio non ha voluto raccontare neanche di quando ha sentito Carol per l'ultima volta rivadendo al giornale l'arena devo proteggere la mia famiglia non è il momento di parlare e di raccontare devo farlo per il mio bambino Davide Fontana un uomo spietato feroce privo di compassione che ha commesso un delitto barbaro e pianificato ogni mossa successiva per evitare di venire scoperto non un gioco intimo finito male ma una lucida strategia assassina Davide ha ammazzato Carol Maltesi perché non poteva accettare di vivere senza la ragazza tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 scrive il jeep di Brescia Angela Corvi nell'ordinanza di convalida del fermo la 26enne gli aveva comunicato che intendeva lasciare Rescaldine trasferirsi fra il Veronese dove risiedeva il figlio eletto e Praga quell'informazione era stato un vero shock per lui il 43enne ha ucciso perché non voleva vedere Carol allontanarsi e ora deve restare in carcere per il macroscopico pericolo di recidiva potrebbe scappare inquinare le prove o colpire ancora il delitto è stato commesso come già vi ho detto tra il 10 e l'11 gennaio pure consentendo che Maltesi di cui si era presentato follemente innamorato intrattenesse relazioni anche con uomini diversi spiega il GIP non poteva assolutamente accettare che se ne andasse lontano abbandonandolo e così le toglieva barbaramente la vita durante un gioco intimo che avevano concordato approfittando della evidente incondizionata fiducia che la giovane riponeva in lui tanto da farsi legare imbavagliare e incappucciare rendendosi inerme nelle sue mani Davide quindi aggiunge ecco perché mentre stavamo girando il video le cui modalità erano state concordate compreso lo scotch sulla bocca di lei nel momento in cui mi sono trovato il martello in mano ho pensato che l'avrei persa l'ho colpita al capo e quando ho sollevato il cappuccio ho notato uno scatto della gamba quindi per evitare di farla soffrire le ho tagliato la gola con il coltello da cucina stando al medico legale Carol era verosimilmente ancora viva anche se in agonia Fontana ha reso agli inquirenti una confessione piena rivelando altressì il movente di evidente natura passionale Fontana aggiunge il jeep ha ucciso una giovanissima donna madre di un bimbo ancora in tenera età colpevole soltanto di voler seguire i propri progetti e aspirazioni lontano da lui ehi ciao sì ho trovato diverse case a Verona adesso sono in pausa mi sto godendo mio figlio due frasi stringate ma rassicuranti che terminano con uno smile una faccina che ride eccolo uno dei messaggi della Chad dell'orrore è il 31 gennaio quando vengono inviate queste parole dal cellulare di Carol lei in quel momento era già morta il destinatario che riceve quel messaggio è Eddie Sant'Angelo amico della 26enne Sant'Angelo è un noto DJ e direttore artistico del locale Showgirl di Bolzano e ha incontrato la vittima un paio di giorni prima del delitto Shock il 7 e l'8 gennaio Carol si è esibita nel locale ricorda il DJ c'era anche Fontana con lei l'ha accompagnata al locale ma non è entrato poi è tornato quando è finito lo show per scortarla in albergo Eddie la descrive serena Carol dopo lo show mi ha parlato del figlio e del suo desiderio di trasferirsi in Veneto per avvicinarsi a lui così mi sono offerto di darle una mano per trovare una nuova casa nel Veronese poi però è sparita dai social e dalle piattaforme dove postava i video il silenzio si è protratto per diversi giorni questo non era da lei così Eddie ha deciso di scriverle tra l'altro emerge che Carol aveva deciso di stabilirsi a Riscaldina per stare più vicina a sua madre malata di Sla ed è proprio al nipotino che vanno i pensieri della madre della vittima la signora Lily devastata dal dolore Carol lavorava per poter stare vicino a suo figlio le interessava fare solo la mamma come si può raccontare al mio nipotino che la mamma non c'è più come potrò dire al bambino che lei non tornerà a lui manca tantissimo la sua mamma la cerca chiede di lei cosa gli diremo parlando dell'assassino la signora Lily è angosciata perché ha fatto male a mia figlia perché voglio ricordare Carol per quello che era una cosa bella mi manca la sua risata gli abbracci baci quando mi sono ammalata è stata sempre attenta a me ha sempre fatto tutto per proteggermi le parole del procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Carlo Nocerino al termine dei primi accertamenti dei carabinieri della sezione investigativa di Brescia nell'appartamento di Carol Maltesi sono le seguenti abbiamo trovato riscontri alle dichiarazioni dell'indagato nell'appartamento sono state individuate traccematiche l'appartamento del delitto raccontato il procuratore era totalmente ripulito dall'assassino anche il piano superiore dove si trova il palo dall'up dance a cui Fontana ha detto di aver legato Carol con la scusa di girare un video intimo per poi colpire la morte è stato tutto accuratamente lavato abbiamo trovato diversi stracci da periziare ha precisato il procuratore mentre il congelatore dove il killer ha conservato il corpo della vittima dopo averla fatta a pezzi era posizionato al piano di sotto un freezer molto grande rispetto alla metratura del cucinotto gli stessi accertamenti sono stati svolti in casa di Fontana dove Nocerino ha spiegato sono state ricercate traccematiche e sequestrati device elettronici che saranno analizzati l'unica cosa che posso dire è che fanno tristezza e tenerezza ai tanti pupazzi che aveva in casa Carol forse per il suo bambino o forse suoi ha concluso il procuratore a carico di Fontana ha concluso Nocerino non sono emersi i precedenti psichiatrici di alcun tipo riguardo al dramma di Carol Maltesi su cui tante troppe persone hanno espresso commenti spesso a sproposito mancava una voce significativa quella della donna che per vent'anni ha vissuto con l'assassino Davide Fontana dopo aver mantenuto a lungo il silenzio sull'omicidio di Carol l'ex moglie del killer parla attraverso il suo legale la richiesta di separazione del marito è stata depositata lo stesso giorno che Fontana è stato arrestato precisa l'avvocato Antonino Crea i miei rapporti con Davide si sono interrotti il 19 marzo del 2021 fa sapere la donna da quel momento non abbiamo più convissuto e abbiamo comunicato solo per la gestione di aspetti pratici legati alla separazione e alla gestione ordinaria di beni in comune i due infatti stavano vendendo la casa la trattativa con l'acquirente però si è fermata molto probabilmente come spiega il legale il 50% di Fontana dei soldi ottenuti dalla vendita verranno messi a disposizione per i risarcimenti decisi dal giudice in primis ovviamente oltre ai genitori Lilli e Fabio Maltesi c'è anche il figlio letto di 6 anni di Carol lei lo adorava lavorava per lui e il suo unico desiderio era prendere casa a Verona dove il piccolo è rimasto a vivere nella bassa con l'ex fidanzato veronese della vittima e i genitori di lui l'avvocato della ex moglie di Fontana rivela che i due si erano incontrati anche nei giorni successivi al delitto proprio per accordarsi sulla vendita della casa la donna aveva visto il marito tranquillo e nulla l'ha mai insospettita poi l'ex di Fontana conclude esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia della vittima sono provata e tremendamente addolorata per quanto accaduto traziata per il dolore che questo uomo ha provocato a questo punto a parlare è Salvatore Galdo trentenne che si dice fidanzato di Carol Maltesi nella trasmissione di Rete 4 fuori dal coro non si interessava di farle passare tempo con il figlio ogni cosa che lei faceva lui doveva mettersi in mezzo Carol avrebbe voluto venire qui a Praga e io ero contentissimo la voce si spezza nel rievocare progetti che non potranno realizzarsi l'ultimo vocale che Carol mi ha inviato risale al 10 gennaio dovevamo partire per un viaggio in Francia nei giorni successivi però non ho avuto più sue notizie la ragazza è tornata a farsi sentire ore dopo ma a scrivere i messaggi non era lei il 13 gennaio mi ha mandato un messaggio su whatsapp in cui mi ha scritto di voler stare sola per un po' alla domanda successiva come stai lei ha risposto dormo tutto il giorno ho provato a chiamarla tante volte ma senza successo a un certo punto mi sono rivolto anche a Fontana per chiedergli di mettermi in contatto con lei lui mi ha mandato un audio nel messaggio vocale fatto ascoltare nel servizio di fuori dal coro l'assassino riferisce con tranquillità di aver informato Carol delle richieste di Salvatore il 7 di aprile Davide viene sottoposto a 5 ore di interrogatorio il terzo della sera in cui aveva confessato ai carabinieri di Brescia l'omicidio di Carol Maltesi sono un vigliacco mi vergogno per ciò che ho fatto e per non avervi chiamato subito ha pronunciato l'indagato a Carlo Nocerino procuratore di Busto Arsizio ora competente per territorio dopo le primissime indagini della procura di Brescia Davide Fontana ha risposto a tutte le domande degli inquirenti e si è assolutamente pentito ha detto il difensore di fiducia Stefano Paloschi durante l'interrogatorio ha avuto un crollo emotivo ha aggiunto Paloschi si è dato più volte del vigliacco per non aver avuto il coraggio di chiamare subito le forze dell'ordine quando pensi di trasferirti a Verona le aveva chiesto al cellulare l'ex compagno e padre del loro bimbo di 6 anni è la mattina del 10 gennaio scorso quando Carol risponde a quella chiamata che sarà ahimè l'ultima telefonata della sua vita a chiamarla è il suo ex fidanzato veronese che le domanda aggiornamenti sulla casa che lei sta cercando a Verona per avvicinarsi all'adorato figlioletto l'unico testimone di quella conversazione al cellulare è Davide che di lì a poco sarebbe diventato il carnefice di Carol sentire quelle parole quel progetto che lei si accingeva ad attuare ossia trasferirsi a Verona è stata la miccia che gli ha fatto esplodere la rabbia omicida a rivelarlo è il GIP Stefano Colombo nella rinnovazione della custodia cautelare da cui emerge che il 43enne ha iniziato a infierire a martellate sulla 26enne appena lei ha chiuso quella telefonata con il suo ex compagno veronese il GIP Colombo quindi ricostruisce la scena e gli ultimi istanti di vita di Carol vittima e assassino erano a casa di lei a Riscaldina e stavano girando insieme un video per adulti la loro performance viene interrotta dalla telefonata a Carol dell'ex compagno veronese l'argomento era l'imminente trasgloco di lei nella casa che stava cercando in affitto a Verona neppure il tempo di riagganciare che la 26enne viene massacrata da Fontana a martellate ripercorrendo la sua escalation di follia e violenza contro la donna che doveva essere soltanto sua Fontana ha dichiarato agli inquirenti non so cosa mi sia successo il crudele copione con cui ha infierito a morte sulla giovane mamma italo-olandese non lascia comunque dubbi al GIP in quei momenti afferati la telecamera con cui poco prima stava girando un video continuava a filmare tutto immortalando l'assassino durante le martellate e anche mentre le tagliava la gola con un coltello giapponese e non da cucina come affermato in precedenza il comune di Rescaldina ha deciso di costituirsi parte civile nel processo contro chi ha ucciso Carol Maltesi tenuta rascosta per oltre due mesi in un congelatore e infine gettata il 20 marzo dentro cinque sacchi di plastica in un dirupo a Borno nel Bresciano l'omicidio di Carol Maltesi brutalmente assassinata nella sua abitazione recita la delibera firmata dal sindaco di Rescaldina ha turbato sentitamente l'intera comunità gli sviluppi dell'azione penale in fase di indagine hanno acclarato come il femminicidio di Carol Maltesi sia maturato in un contesto di profondo disvalore per il rispetto della vita umana continua il documento e come purtroppo anche la successiva narrazione ad opera delle cronache nazionali abbia restituito un'immagine non veritiera della donna vittima del reato attribuendo qualità artificiose volgarie priva di contenuto morale all'incolpevole vittima l'omicidio dice in sintesi la delibera di Giunta è da considerarsi come una gravissima lesione alla dignità umana della cittadina di Rescaldina la cui morte ha palesato sia una gravissima condotta di soppruso fisico e morale nei confronti di una donna sia altrettanto preoccupante atteggiamento culturale e denigratorio nella narrazione biografica della vittima ma c'è anche un'altra vittima in questa storia terribile è la madre Lilli da quando ha appreso della tremenda fine della figlia è come se si stesse lasciando lentamente morire lancia l'allarme l'avvocato di famiglia ha anche interrotto le terapie la signora soffre di SLA e necessita di cure costanti e siamo molto preoccupati è come se con Carol avesse perso la sua unica ragione di vita arriviamo al 7 ottobre 2022 quando Davide Fontana ha chiesto attraverso i suoi legali di poter essere ammesso al rito abbreviato nell'inchiesta che lo vede accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere la proposta se accolta prevede uno sconto di pena di un terzo tanto quanto serve per mitigare l'ipotesi accusatoria più severa vale a dire l'ergastolo l'abbreviato consiste anche nella discussione del caso in udienza preliminare o un processo a porte chiuse in camera di consiglio con i suoi elementi in mano al pubblico ministero nella fase preliminare delle indagini ora a indagini chiuse a metà settembre l'ultima parola passa al giudice per le indagini preliminare di Busto Arsizio che dovrà decidere se accogliere o respingere la richiesta di rito alternativo il 13 ottobre emerge che Davide verrà giudicato dalla corte d'assise di Busto Arsizio con rito immediato il giudice per l'udienza preliminare ha rigettato la richiesta di rito abbreviato presentata dal suo legale Davide Paloschi nell'udienza tenutasi in camera di consiglio Fontana ha parlato dicendosi pentito nelle spontanee dichiarazioni rese in aula ha affermato di non avere il coraggio di guardare in faccia i genitori di Carol sottolineando poi di non aver avuto nessuna preordinazione né premeditazione nell'eseguire quanto accaduto rispetto alla decisione di negare il giudizio abbreviato i due legali hanno affermato di essere concordi con la scelta del gruppo era la decisione che si aspettavano nel corso dell'udienza sono stati ammessi come parti civili entrambi i genitori di Carol Maltesi oltre al figlio della vittima minore che vive assieme al padre il 24 ottobre inizia il processo al food blogger 43enne di Milano proprio Silvia l'ex moglie di Fontana sarà tra i testimoni dell'accusa e dunque deporrà contro di lui schierandosi apertamente come già aveva fatto subito dopo l'arresto dell'ex marito a favore dei familiari della vittima durante il processo viene fuori che dopo la furia iniziale a colpi di martello Carol avrebbe ancora potuto essere salvata sarebbe bastato che l'aggressore si fosse fermato a quel punto e avesse chiesto aiuto se fosse stato tempestivamente chiesto l'intervento dei soccorsi secondo i medici ci sarebbero state buone possibilità di evitare il decesso anche se è difficile pronunciarsi sulle conseguenze neurologiche invece l'assassino non ha avuto pietà seviziandola e cercando in vano di darle fuoco nascondendone al mondo l'orribile morte fino al 21 marzo quando ha riposto ciò che restava di lei dentro alcuni sacchi dei rifiuti gettandoli infine da un dirupo a borno nel Bresciano una settimana dopo il 28 marzo Fontana è stato arrestato in seguito al ritrovamento dei resti della 26enne messo alle strette dai carabinieri è crollato e ha confessato la ghiacciante mattanza adesso ogni volta che gli altri bimbi a scuola gli chiedono dove sia la sua mamma il figlioletto di Carol Maltesi risponde con l'innocenza e il candore dei suoi sei anni lei non c'è più e quando invece la psicoterapeuta gli domanda quali siano i suoi timori il piccolo rimasto orfano della madre confida di aver paura di dimenticare come era fatto il viso della sua mamma gli psichiatri presenti in aula dichiarano che l'assassino era innamorato di Carol in modo infantile come un dodicenne Davide Fontana aveva paura di perderla inoltre non ci sarebbe stata premeditazione da parte dell'uomo si parla di un raptus provocato proprio da quella chiamata da Verona giunta al cellulare di Carol mentre stavano girando insieme a un viglio nell'abitazione di Leia Rescaldina vicino Legnano tra l'altro hanno sottolineato in aula al processo in corso davanti alla corte d'assise di Bustorsizio tutto questo avvenne in un momento di intimità un momento importante per l'imputato potrebbe essere successa una reazione cortocircuito secondo l'analisi degli esperti ingaggiati dal difensore Davide Paloschi Fontana non avrebbe potuto ucciderla guardandola in faccia lei indossava un cappuccio in quel momento se non l'avesse fatto non sappiamo se Fontana sarebbe stato in grado di fare quello che ha fatto una testimonianza quella resa dai consulenti psichiatrici di parte che potrebbe rivelarsi fondamentale per le sorti giudiziarie dell'imputato i due psichiatri della difesa hanno delineato Fontana come un narcisista con tre vite quella prima di Carol quella dopo averla incontrata e quella dopo averla uccisa proprio grazie alla loro deposizione la difesa del reoconfesso dell'omicidio di Carol è tornata a chiedere l'accertamento psichiatrico sull'imputato che questa volta è stato ottenuto nello specifico il perito dei giudici dovrà rispondere a un quesito da cui dipenderà il futuro processuale e anche di vita per Fontana ovvero se fosse o meno capace di intendere di volere nell'atto di uccidere Carol accuse parti civili si sono opposte alla perizia psichiatrica ma la corte d'assese presieduta da Giuseppe Fazio ha invece deciso per il via libera e il 16 gennaio viene affidato l'incarico al perito nominato dalla corte il medico psichiatra e psicoterapeuta Mara Bertini per il legale di Fontana la perizia servirà a capire cosa è accaduto quando la vittima ha ricevuto la telefonata durante l'ultimo video di Carol la chiamata c'è stata è importante capire la scintilla del fatto Fontana è un sadico i testimoni che abbiamo sentito lo descrivono come un uomo medio accendiamo il faro della perizia per fare luce al perito quindi spetterà il compito di accertare la capacità di intendere di volere di Davide Fontana al momento del delitto la sua capacità processuale e l'eventuale pericolosità sociale la professionista inoltre dovrà pronunciarsi sulla necessità di cure per l'imputato e in caso affermativo individuare il percorso terapeutico più idoneo gli accertamenti necessari alla perizia ai quali parteciperanno anche i consulenti nominati dalla procura della ripubblica dalle parti civili e dalla difesa prendono il via il 3 febbraio in aula si tornerà invece lunedì 8 maggio quando i risultati raggiunti dalla psichiatra incaricata dalla corte d'assise verranno sottoposti al confronto tra le parti questo per ora è ciò che si sa sul caso di Carol Maltesi appena uscirà fuori qualche novità sarà la prima a raccontarvi tutto detto ciò io ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo caso possa essere stato per voi interessante io immagino che lo conosciate io immagino che ne abbiate già sentito parlare ma sono comunque curiosa di sapere che cosa ne pensate perché ho trovato questo caso molto crudele di una crudeltà inaudita di nuovo abbiamo un'arma del delitto tremenda come un martello e insomma sono curiosa di sapere qual è la vostra opinione quindi come vi dico sempre ci becchiamo qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti